evento storico chicco nonno nonno è che è finita una settimana la quarantena mi metti chiuso la casa e li puoi smuritoni a pigliare e non so più l'istruttore ma quando veniva su di che ti prendi la casa mi dritto niente si vieni puto grazie donno vieni facciate la casa lui è bella cosa la cosa la lavaggia ma qua è deciso di ambulatorio sono affunciato la minuzione questa qua è la stanza di francesco nonno questa qua è la stanza di francesco ti piace la mia stanza nonno star wars batman che cucina nerda 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 cosa quella cassaforte la cassaforte la cassaforte la cassa io non andava a capire cosa ma non si mi sono andato il signor lamberti dice non sei niente o no ma a sapere cosa nonno faccio i francesco e noi come ti chiamo nonno vieni messa qua dove c'è la stanza di francesco questo è una stanza di francesco che è ma io non mi c'è il piede pugnante ma è il deodorante questo è il capomella adesso quanto lì l'avvicinavo ah ok ma questo è il salone ma qua salone non è un bagno su un lavantino mi dà la vasca no no che si è la vasca io non mi c'è il bagno non mi cassa che stava cucina tu ma La casa da due minuti a me è 75 di ecce Ui, tu non lo puoi andare Ma non lo dico, ma non lo dico E questo è il balcone Sto riprendendo, sono momenti belli nonno Dile merda Dile merda Guarda che c'è l'ambulatore qua Vedi qua, che bella vista eh Chi è che la metti la bacia? Nonno Nonno, ma cosa stava lì? C'è l'ambulatore Questa è bella, guarda tu Vai a scendere Senti l'ambulatore Nonno, le paghi tu le pizza E qual è il problema? La pizza di ricentro è da volta a 725 euro di resta Ma che tiene i soldi del reggisino come le vecchie? Su te braccio, questo reggio, su chi braccio? Che schifo I tuoi volessi caglieri e non volessi via andare dietro tutto per me eh? Perchè grazie a voi devi sempre dire russate Sempre dire russate Sempre la vecchia Nel palazzo non si vede i cazzo La roba di ricchi Mi sono fatta niente dei tieni E' da rondire le femmine Ma E' come le piccole la salsa Ci ha fatto l'analisi Nonno Nonno Oh no Ma ora sei arrivato? C'è la torna? E' proprio la salsa E' la mia appoggia Non c'è niente Nonno però c'è un problema La salsa L'abbiamo L'abbiamo tipo affittata Sub affittata no? Ah Non è più tua Ma era tua Ma noi pensavamo che tu non ce l'avresti fatto Ma che altro sta il senso? Ma quello poi morivano gli anziani Noi abbiamo pensato che tu saresti morto A me No Chi è che accendete l'uso? Signor Cascone E' tu ancora un amico? Eh E' ancora? Ma che cazzo hai giù ti dicevi? Ma io ho visto manifesti Tu e l'ipote hai fatto manifesti sui portoni Ma tu che hai fatto manifesti? Ma un paio di manifesti Ma le tengo da prezzo a tu e le porto a fuori E' ma come hai detto? Ma come hai detto? E' questa stanza da mia Io pago di affitto Stanza da mia Che cosa? Io pago di affitto Questa stanza da mia Quando avevi lì? Ma quando avevi fatto Se tu vuoi dieci euro di ora Passi dieci euro di ora A me tu dormi qua con me Ma tu eri cominciato a defumare? A che? C'è cominciato E' solo un gesto Mi hai rimasto Non spesso mi avevo fatto vizio Ma tu uscivi alle 18 Per cantare l'inno nazionale? E se mi vuoi chiudere Ma per me era andata una cameretta Loro cantavano lì fuori dal balcone E si facevano alzare le bandiere Nonno Questa vulgarità Lascia un po' dentro di metà Io Cascone Ma volevo riprendere Cascone la luce Vabbè Irina mi raccomando eh Irina Irina Che stai male Irina Cascone Vabbè Ma questo non è il bagno Questo è da sgabuzzi Ma come hai sgabuzzi Vieni 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 Ma come delle mie scarpe Nonno Vieni 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 più porno. Ma se tiene l'alzheimer uno. E perciò se ti vado più scogli di trucchi indossi e mi riesci a rubare, vai a coltivare, non c'è bisogno di succedere. Secondo te. Ora facciamo l'ultima, se ne va il cucchiaio. Ma io non ho la signora della mamma, eh? Ma per te che ci fai tu culo? Tu mi raccomi i cinghiali. Ma vuoi i cinghiali? Non hai 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 cinghiali? Au revoir.